buonasera a tutti adesso vi farò vedere un lavoro che ho fatto un po di tempo fa che ho ritrovato in cantina avete visto il casino che c'è faccio vedere un po di luce perché arrivo questa doccia mi è venuta la malata idea di perché non trasformare la doccia in una lampada adesso vi faccio vedere cosa ho fatto e poi vi faccio vedere come funziona qui c'erano tutti i gommini per far uscire l'acqua a spruzzo ho preso delle viti cieche le viti normali a croce poi intorno ho messo un led che dopo vi farò vedere di che colore è e dentro un po di tempo fa mentre smonto vi faccio vedere avevo preso delle dei led a come si dice rotondi non mi viene bene il nome viene data aureola tutto pensa che vuoi vedere se ci sono mobili dove beccarci con le dieta adesso vediamo un po praticamente adesso portiamo fuori che esce tranquillamente anche perché praticamente qua c'è sta oreola qui che ho messo il trasformatore ho messo tutti i fili ho chiuso tutto bene ed è ancora tutto chiuso tranne questo che adesso rivisiteremo pochettino ho messo la luce adesso vi faccio vedere come funziona è una lampada attacchiamo e rimane così come si trasforma una doccia in lampada di gioco dovrà mettere dall female condizioni tripti si vedete con la ora lì fortuna che stà in quel buco perché poi qua c'erano il tubo dove si morte 4 adesso così fa più luce con il pezzo davanti di plastica quello che avete visto prima rosso un po di meno però se ne frega è una luce notturna non deve fare troppo luce se noi ci svegliamo mi sono addoppicato con le parole e niente ok google spegni luce ok ditemi cosa ne pensate adesso io vi spiego qua ho preso un trasformatore ho preso il led poi ho preso gli altri leggi che ci sono qua fuori li ho portati dentro adesso il trasformatore non adesso non saprei proprio da quanto possa essere trasformatore però io l'ho provato si illumina fatto tanto tempo fa prima di mettere i video su youtube adesso dovrò aggiornare perché qui si è un po staccato c'è anche una mosca che non ho notato defunta lì dentro niente ditemi cosa ne pensate al prossimo video